Upsa, tutti, 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 mi cari Upsine, Upsine, come state? Come, 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 come state? Guardate, io ho molto meglio rispetto alla settimana scorsa, quindi sono veramente felice di essere qui a registrare questo video per voi. In questo video farò appunto del vero ASMR. Sì, ma prima di cominciare, come sempre, ti chiedo di indossare un paio di cuffie auricolari, di stenderti sul tuo letto e magari cercare di chiudere gli occhi, va bene? Quindi, detto ciò, iniziamo subito, subito, subito con il video. L'unica cosa che vi dico, che non ho ancora detto in nessun video fino ad adesso, ma perché non sono proprio riuscito, è buon mese del Pride. Per questo mese facciamo in modo che i colori dell'arcobaleno vengano sprigionati al cento per cento. E quindi volevo fare appunto questo augurio, chiedendovi anche magari se voi andrete al Pride della vostra città. Io penso proprio di sì e per me il Pride di Torino è il 17, quindi mi sembra che questo video esca prima. Non ho controllato il calendario, ma sì, questo video penso uscirà prima del 17, appunto perché il 17 è sabato, mi sembra. E quindi, niente, questo qui. Volevo farvi questo augurio, darvi il buon mese, augurarvi il buon mese. E niente, ma cominciamo subito. Cominciamo subito. Questo video sarà appunto un video di trigger, diciamo, ma veramente, veramente rilassanti. Fidatevi. Comincio con delle maschere. Comincio con delle maschere. Comincio con delle maschere. Come sempre, a fine video, fatemi sapere il trigger che vi è piaciuto di più. Ok, quindi questo era un trigger, 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 trigger. Adesso. Cerco di prendere questo slime. Perfetto. 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 Devo stare attento. Perfetto. 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 Cerco. Perfetti. Perfetto. Perfetto. Ops, aiuto Ok Questa volta sì, l'ho preso azzurro Per abbinarlo alle luci Ok Come, come ti senti? Come, come, come ti senti? Adesso farò un trigger che non ho mai portato sul canale Quindi sono veramente curiosa di scoprire se vi piacerà oppure no Ho preso i joystick della Switch Adesso Questo è un trigger un po' più diverso Ok 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 Vi è piaciuto? Questo qua era appunto diverso dagli altri Di nuovo O se a voi piace O qua Il cuscino bianco Che vi posso solo fare Lo adoro Lo adoro Che poi Che poi Da lontano Da lontano E niente Per il cuscino bianco Va in palla Adesso Adesso Dall'altro Dall'altro l'altro lato Osserva la punta del mio dito Lo adoro Lo allontano Lo allontano un po' Ma tu osserva sempre Dall'altro Dall'altro Così 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 Osserva il dito Osserva il dito Osserva il dito Osserva il dito Ok Perfetto Adesso Ho preso un sottoventola Ok 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 Grazie. Rilassi. Sta iniziando a fare veramente caldo in questi giorni. Adesso l'ultimo trigger. Ho preso questa bottiglia di crema che ti metterò un po' attorno agli occhi. Ho preso questa bottiglia di crema che ti metterò un po' attorno agli occhi. Ho preso questa bottiglia di crema che ti metterò un po' attorno agli occhi. Perfetto. Questo ti aiuterà a dormire meglio. Piatti di me. Quindi adesso che secondo me stai già per addormentarti io ti dico... Tocca a te. 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 Ecco il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video tu vorrai vedere o rivedere. Quindi adesso ti mando la buonanotte con un grande grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Bene. Buonanotte. 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 Buonanotte.